Il pianto ti gioverà, balanca il polmone, lava la coscienza, allena gli occhi, rilugisci il carattere, piangi, piangi pure. Parla della tua prerogativa, parlane, parlane se osi. Alzati, fuori di qui, potrai anche commettere un atto di risperato. Certo, il caro. Certo. Lei era l'amministratore qui, non è vero? Di questo ospizio. E adesso che cos'è? Direttore dell'ospizio. Bravo. Mi ascolti bene, voglio un'informazione. Cerchi di ricordare, dieci inverni non sono, scena all'ospizio, tempo alla notte, luogo il dormitorio in femminile, d'acqua è un ragazzo. Ne sono nati molti. Poi andò a lavorare da un fabbricante di bar. Avrò parlato di twist, il bambino più sfogliato del... No, non chiedo di lui, chiedo di una donna, della vecchia che assiste sua madre. Dov'è? È morta l'anno scorso. Un momento. Sì. Una donna era presente alla sua morte. E come potrei parlarle?